Le bancarelle sono tornate intorno alla Basilica di San Lorenzo a Firenze, seppure solo per un giorno e senza esporre merce. Una protesta simbolica messa in atto dagli ambulanti il giorno dopo che il TAR ha annullato la delibera del comune che li aveva trasferiti in blocco e contro la loro volontà in piazza del mercato centrale, ufficialmente per lavoro urgente alla pavimentazione stradale, peraltro eseguiti, in realtà perché la loro sindaco Matteo Renzi voleva liberare una volta per tutte la piazza dei banchi dopo tre anni di battaglie legali. Nello specifico il Tribunale non ha contestato il trasferimento in sé quanto il fatto che il comune non aveva specificato nella delibera la durata del provvedimento. Una sentenza che però non farà cambiare idea all'amministrazione comunale, come sanno bene gli stessi ambulanti il cui obiettivo adesso non è tornare in piazza San Lorenzo quanto di individuare velocemente una collocazione alternativa per tutte le bancarelle, visto che piazza del mercato non può ospitarle tutte adeguatamente. Oggi credo che gli ambulanti di San Lorenzo abbiano dato dimostrazione di serietà e di responsabilità in un momento difficilissimo. Noi dobbiamo chiudere questa questione, non è che noi si riporti i banchi perché si vuole stare qui, noi si riporti i banchi soltanto perché bisogna trovare una soluzione. Confronto serio avviato dal neossessore allo sviluppo economico Giovanni Bettarini. È chiaro a tutti che questa non è una vicenda semplice, però è altrettanto chiaro che ormai l'area mercatale del Comune di Firenze è il mercato centrale, è piazza del mercato. Perciò la trattativa riparte da lì, nel senso che oggi verrà fatta l'assegnazione definitiva in piazza del mercato e poi si cerca di trovare le soluzioni che rispettano le esigenze del Comune, che è quella di tenere libera piazza San Lorenzo e le loro esigenze commerciali che sono legittime. Le opzioni in campo sono molte, fra cui quella che piace molto al sindaco Nardella di piazzale Michelangelo.